una cosa che mi ascolta dire qualsiasi mio studente è sempre se avete visto qualche altro video del canale probabilmente vi siete imbattuti in questo volto che dice questa cosa suona lentamente studia lentamente suonate lentamente studiate lentamente anche quando sentite che state migliorando continuate a studiare lentamente magari a volte andate avanti e indietro nel tempo nel tempo la macchina del tempo ma insomma studiando un brano più velocemente più lentamente anche quando sentite che state migliorando tornate sempre indietro studiato dei passaggi molto lentamente per vedere se vanno dall'altra parte c'è l'altra metà del discorso e cioè se non si comincia a mettersi alla prova e se non si comincia a testare la velocità chiaramente non ci non ci si riesce poi si fa molta fatica e mi capita in realtà di fare un esempio lo faccio molto spesso e lo riporto qua se guidate la macchina e la maggior parte di quelli che guidano sanno di che cosa parlo anche se magari non sono uno strumento quindi si può capire l'esempio se prendete una curva anche abbastanza no ripida a una certa velocità a una certa difficoltà cioè se fate una curva 20 30 all'ora 40 all'ora probabilmente riuscirete a uscirne vivi se sulla stessa curva arrivate a 180 magari con la stessa macchina e siete sempre voi a guidare non un grande pilota di formula 1 è probabile che quella sarà l'ultima curva che prendete quanto meno da sani adesso è un esempio che può essere calzante perché perché gli elementi in gioco sono proprio quelli cioè la curva è quella la macchina è la stessa noi siamo gli stessi che cosa è cambiato cambiano due elementi in realtà la velocità con cui arriviamo e quindi la nostra reazione a quella curva cioè se ce la troviamo sotto all'ultimo momento che non abbiamo i riflessi necessari per girare e noi la capacità di girare allo stesso tempo appunto dopo aver dopo aver visto una curva e aver capito che è arrivata veramente in maniera molto veloce la sbaglieremo andremo fuori strada c'è però un altro elemento da considerare che è la forza centrifuga cioè mentre noi arriviamo a una velocità e cominciamo a girare la macchina avrà una tendenza a perdere aderenza sul terreno molto più grande perché più velocemente si va maggiore sarà la forza centrifuga che ci spinge lontano dal nostro obiettivo perché faccio questo esempio perché in realtà a suonare comporta una cosa molto simile e cioè mettiamo che suona chitarra un brano e sono io gli elementi che non cambiano sono sempre io il brano è sempre quello la chitarra è sempre la stessa che cosa cambia nella velocità di esecuzione gli stessi due elementi cioè i passaggi le note arrivano tutte molto più velocemente quindi a volte non c'è modo di reagire agli stessi passaggi e quindi sbagliamo dall'altra parte c'è la modalità con cui suoniamo ogni nota se dobbiamo suonare più velocemente le dita dovranno fare un movimento che è apparentemente lo stesso ma in realtà non è lo stesso perché muovendo tutte le dita più velocemente ci sarà una maggior propensione allo sbaglio suonare più lentamente è un passaggio è diciamo apparentemente più semplice che suonarlo più lento perché poi ci sono delle difficoltà anche lenti però diciamo a una media velocità sennò si studierebbe prima veloce e poi lento e infatti un esempio che faccio spesso è quando vedo che mi capita di affrontare un nuovo studio con chi studia con me e la cosa è che ti faccio ascoltare quello che devi studiare questa settimana per cui ce l'ho spartito davanti ci sono io che suono una cosa che non generalmente ho scritto io e quindi suono e faccio vedere dei passaggi lo faccio sentire alla velocità normalmente e la risposta spesso è orca miseria una certa studia studiare sta settimana guarda non ci riuscirò mai a suonare queste cose una delle cose che faccio spesso è immediatamente dopo provare a suonare lo stesso brano o almeno i passaggi alcuni dei passaggi che sembrano più impegnativi più significativi in maniera molto lenta e lì noto proprio un rilassamento di chi ho davanti perché perché a volte quello che fa impressione è la sequenza veloce dei passaggi non tanto i passaggi stessi che se non li sai suonare ovviamente ti creano una difficoltà perché hai paura che diciamo più o meno in una settimana che il tempo medio della lezione quella cosa non riesce ad affrontarla vedere gli stessi passaggi però in maniera molto più dettagliata più particolare suonati più lenti fa molto spesso rendere conto che sono movimenti movimenti come tutti quelli che abbiamo fatto fino a quel momento chiaro ci saranno sempre degli elementi nuovi perché si cerca di migliorare no quindi di ammettere sempre cose un pochino più difficili però poi quando li vedono suonati molto lentamente lo studente si rende conto che effettivamente ma il passaggio vabbè quello devi muovere il dito così quello devi muovere cioè qualunque passaggio suonato lento è quasi non voglio dire quasi affrontabile da tutti ma quantomeno comprensibile e ci si può provare quello che cambia ovviamente è la grande velocità io guido la macchina sono in grado di affrontare una curva anche mediamente veloce ma insomma se mi mettessero a fare un rally o il freno a mano di rado sgommando o in formula 1 appunto arrivando a 320 e dovendo scalare 18 marce in mezzo secondo per prendere comunque la curva a 170 credo che non sarei in grado ecco posso levare il credo quindi quello su cui possiamo lavorare è sicuramente no un apprendimento costante utilizzando magari un metronomo per vedere dove siamo scaldandoci sempre bene mi raccomando non cominciare a suonare velocemente sempre lento arrivare i passaggi più impegnativi sempre in maniera molto no molto molto decisa giusta preparata però provare a portarci nella direzione che ci serve cercando di comprendere prima perché quel brano su che lento ci veniva veloce non ci viene più perché gli elementi sono quei due o non riusciamo a vedere abbastanza velocemente i passaggi e quindi siamo messi in difficoltà dalla rapidità con cui le cose arrivano oppure non riusciamo dovendo muovere più rapidamente le dita non riusciamo ancora a muoverle con quella rapidità sufficiente che ci consenta di non fare errori quindi più o meno sono i due elementi che dobbiamo cercare di considerare quando aumentiamo la velocità e grandi segreti non ci sono o sta da una parte o sta dall'altra se abbiamo le cose scritte davanti o ce le ricordiamo a memoria più o meno la stiamo spero sia qualche indicazione utile per affrontare magari un nuovo studio o lo studio in una maniera leggermente diversa